Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, che aglieti la Tua Chiesa del ricordo di Santi Rene d'Alecce, Vergine e Martire, per la Sua intercessione e il Suo esempio, concedi anche a noi fortezza e purità di spirito, per seguire Cristo sulla via della croce. Egli è Dio, e vive e regna con Te. Nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santireni da Lecce. Pregate per noi. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo.